Si sono introdotti forzando una finestra al primo piano e una volta all'interno hanno rovistato fra gli armadietti del personale scolastico in cerca di oggetti di valore. Magro il bottino per la banda di ladri vandali che nella notte di Natale sono entrate alla scuola media Franca Papi al Varignano a Viareggio. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stata una bidella residente nella zona che la mattina di Santo Stefano ha notato le luci accese nella scuola e una finestra aperta. Subito è stato dato l'allarme sul posto gli agenti del commissariato di polizia di Viareggio per eseguire i rilievi accompagnati dalla dirigente del comprensivo Don Milani Nella De Angeli per fare una ricognizione e quantificare i danni. Siamo venuti a vedere ci sono segni tangibili di effrazione sono entrati cosa cerchino veramente io non lo so non lo so tanti danni danni alle porte usano degli attrezzi proprio per aprire le porte ma cosa si cerca in una scuola questi sono sono attrezzature che usano i ragazzi usano non lo so servono per la didattica. Non sono stati toccati i tablet e neanche computer neppure i portamonete dei distributori di bevande finiti invece nel mirino dei ladri alcune settimane fa alla vicina primaria Tobino. È molto sono molto amareggiata mi dispiace perché lo sforzo che facciamo è enorme enorme questo fa molto dispiacere ho già avvertito sono venute le forze dell'ordine ho già avvertito il comune l'assessore alla pubblica istruzione